questa è una bolognese mara, venite a pensare, vedete quello che faccio, ammucimmi ragazzi buongiorno oggi facciamo una grande bolognese rivisitata, perché rivisitata? ottuna facciamo, non con carne macinata, tonno macinato, olio, salatella, cipolla, carota, potusina, sedano e pomodorini, olio, cipolla, la facciamo soffriggere, sedano e carota, anche un po' di vino bianco, vino d'acqua, i pomodorini, un piccolo di sale, mettiamo l'acqua, sale quando basta e poi mettiamo i nostri scialatieri, ci buttano a cascata, ragazzi guardate dopo un po' di tempo come vede sta cremina, ora è il momento di calare il tonno dentro, però prima di calare il tonno dentro ci aggiungiamo una poca pura pasta, guardate, vedete com'è bella, non facciamo passare, un po' di prezzemolo, guardate qui, ricordate qui, la magra è carne, mamma mia, che spettacolo, questa è pronta, la alziamo, guardate qui, la facciamo saltare due minuti prima e facciamo bella ardente, la bolognese è quasi pronta, guardate qui, che goduria, guardate, bolognese rivisitata con tonno, pomodorina, sedano, carota e cipolla, ora facciamo lì, usciò la diventa crema, che goduria, mamma mia, guardate qui, goduria, mamma mia, che spettacolo, voglio fare, questo è il momento è più bello, ci aspettiamo quando, non è bello, ci aspettiamo, sono lì, vieni vieni, vieni, vieni vieni, 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 salatiamoli con tonno, Bolognese di Mare rivisitata mamma mia mamma mia che vuol dire che fa? questa la dovete fare Bolognese di Mare con tonno un bacio a Cascolato vi aspettiamo la prossima puntata un bacio a Cascolato